Siamo con Maria Alba Corona, presidente dell'ANXA di Bologna. Ciao Maria Alba. Ciao Federico, ciao a tutti. Cosa vuol dire ANXA come acronimo? Allora ANXA vuol dire Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Praticamente è un'associazione formata da genitori e volontari, tutti i genitori dello spettro autistico. Facciamo parte di ANXA Nazionale che è nata nel 1985 e attualmente ci sono 19 associazioni regionali e 26 associazioni provinciali in Italia. È una grande associazione, in particolare la tua sezione, devo dire, brilla per attività, soprattutto direi non solo attività rivolte alle famiglie e agli utenti, ma anche attività convegnistiche. Puoi raccontarci la storia in particolare della tua sezione? Allora, la mia sezione, io sono presidente dal 2010, sono al secondo mandato e all'inizio diciamo che era soprattutto un'associazione di pensiero. Poi, assieme alla dottoressa Daniela Mariani Cerati, che è stata un po' la mia maestra, abbiamo pensato che bisognava aiutare anche le famiglie effettivamente. Cioè, ANXA ha sempre pensato che le attività le dovessero fare le istituzioni, ma siccome purtroppo noi siamo tantissimi, le istituzioni non fanno più fronte ad aiutare le famiglie effettivamente e allora abbiamo pensato a far nascere delle attività. Sono nati tanti anni fa, è nato il primo sabato di autonomia, adesso abbiamo parecchie giornate di autonomia sparse in tutta la provincia, parecchie domeniche, facciamo attività per adulti, per adolescenti e per piccolini e abbiamo tanti progetti in pancia per tutte le famiglie. Soprattutto, ecco, una delle nostre funzioni principali è quella della formazione, perché secondo noi non solo gli operatori che stanno vicino ai nostri ragazzi, ma anche le famiglie hanno bisogno di sapere come fare per gestire i loro figli. Quindi noi ogni anno facciamo corsi di formazione, siamo anche accreditati al MIUR, sia agli operatori che alle nostre famiglie. Io ho avuto anche l'occasione di vedere alcuni video che state preparando per mantenere le attività motorie, ma non solo. Puoi raccontarci quello che avete messo in campo in questi giorni di clausura forzata? Sì, allora, per i nostri ben poco purtroppo, perché come ho detto non tutti via Skype riescono a lavorare. Noi con il nostro progetto Prisma, del quale siamo capofila, Sport Anch'io, abbiamo messo una video anche sulla nostra pagina Facebook Anca Bologna e mandato anche a tutte le famiglie che fanno questo progetto, dove c'è una nostra responsabile dello sport che fa vedere alcuni semplici esercizietti. È una lezione. Contate che questa lezione, che sembra difficile anche per i casi più gravi, ci sono ragazzi che grazie al progetto Prisma, dopo tre anni la fanno dall'inizio alla fine. Quindi è una lezione di mezz'ora semplice, dove in casa il ragazzo lo può fare col fratello, lo può fare col genitore e intanto si passa mezz'ora. Per quel che è possibile anche per il progetto Crescere Insieme, dove abbiamo un gruppetto, sempre Prisma, non di ragazzini autistici, ma con altre diagnosi. I ragazzi di Casa Sant'Anna, a livello di volontariato, stanno facendo appunto dei video e sono in collegamento con questi ragazzi per non interrompere il progetto. Abbiamo tanti progetti che sono in corso, con fondazioni. Vedremo come rimodulare, se questo periodo andrà per le lunghe, come si presume, quando calerà il picco e gli educatori potranno di nuovo venire a domicilio senza problema, vedremo noi, se non riusciamo con le istituzioni, a organizzarci per rimodulare i nostri progetti e mandare i nostri educatori ad aiutare le famiglie a domicilio. Fra l'altro ho istituito sempre sulla pagina Facebook un numero di telefono dove le famiglie mi possono chiamare, che non è un supporto psicologico. Di solito magari la famiglia non chiama perché si spaventano quando legge psicologico. È più che altro una conversazione da presidente a mamma e da mamma a mamma. Una conversazione per chiedere come stanno, per illustrare la nostra associazione e magari sentire a cosa piacerebbe fare al loro figlio. È Anza Bologna la pagina Facebook, anzabologna.it il sito. Nel nostro sito c'è una casellina, noi su YouTube, dove in questi giorni tutti i genitori possono andare a vedere gli interventi a seconda dell'età, a seconda di quello che a loro interessa, di tutti i professionisti italiani che hanno fatto i nostri convegni. Quindi sono interventi scelti, non sono interventi di ciarlatani e quindi un genitore, se ha un po' di tempo, può andarsi ad ascoltare un po' di interventi sull'autismo. Benissimo, un'ultima domanda, ma quel bel ragazzo che passava dietro, come si chiama? Si chiama Edo, te lo vado a prendere subito, un attimo. Eccolo, lui è Edo, appena diciottenne, compiuto il 31 gennaio. Beh, taggiauguri. Ciao. Ciao Edo, concludiamo questa intervista con il bel viso di Edo, di cui leggo una storia, fra l'altro, che è in un bel libro. E niente, ti ringrazio Maria Alba, un saluto a te. Io vi ringrazio anche a voi, quando volete io sono disponibile. Grazie mille, ciao. Sì, ciao. 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 Ciao.